Non mi toccare! Stai fermo con le mani! Stai citta! Hai capito? Stai citta! Non ti muovi! Ti fai male al braccio! Lasciami! Ti fai male! Così ti fai cadere! Stai ferma! In Italia 400.000 bambini assistono alle violenze sulla propria mamma. Aiutaci ad accoglierli. Dona 2 o 5 euro al progetto Non toccatemi la mamma di Amici dei Bambini. Chiama o manda un sms ai 45567. Non mi toccare!